La previsione di un'ampia ed importante serie di interventi, tutti convergenti sul complessivo obiettivo di una grande riqualificazione e miglioramento delle strutture e quindi delle condizioni di vita nel grande complesso ATER di Rozzol-Melara, contenuti in un progetto che punta ad ottenere i consistenti contributi previsti da un recentissimo bando governativo nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, è stata approvata stamane dalla Giunta Municipale di Trieste con una specifica delibera proposta dagli assessori alla città, territorio, urbanistica e ambiente Luisa Polli e ai lavori pubblici Elisa Lodi. I diversi contenuti ed aspetti del nuovo provvedimento dell'amministrazione di piazza che già inviato alla valutazione della sesta circoscrizione competente per il territorio dovrà ora venire discusso e votato dal Consiglio Comunale. Sono stati anche già esaminati e confrontati tra i rappresentanti dei diversi enti competenti nel corso di una visita sopra luogo allo complesso abitativo convocata dalla nuova amministrazione del Comune di Trieste, cui hanno partecipato nei giorni scorsi il vice sindaco Pier Paolo Roberti con gli assessori Luisa Polli e Delisa Lodi, come detto relatrici del provvedimento, insieme ai tecnici municipali della pianificazione urbana, architetto Marina Cassin, direttore dell'area città, territorio e ambiente architetto Roberto Bertossi e il geometra Andrea Conti, i quali hanno elaborato il progetto complessivo delle opere e quindi per l'Ater di Trieste, il direttore generale Antonio Ius, assieme ai responsabili dell'area manutentiva dell'ingegner Fulvo Capovilla e dell'area pianificazione dottora Cristina Davi, nonché per la Cegas APS AMGA e la dirigente dei servizi al territorio della direzione ambiente Giorgio Zaccaria. Sono stati valutati e discussi nei dettagli anche compiendo un apposito approfondito giro sia all'interno delle vaste parti comuni che nelle parti esterne del quadrilatero, tutti i possibili provvedimenti e miglioramenti che potranno venire introdotti con i contributi derivanti dal citato programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana e dei comuni capoluogo di provincia. Istituito dal governo con l'ultimo bilancio della legge di stabilità 2016 e a cui bando di partecipazione, pubblicato quale decreto rappresente il Consiglio dei Ministri in una gazzetta ufficiale del 1 giugno 2016, la nuova amministrazione comunale di Trieste ha immediatamente aderito, appena insediatasi, attivandosi fin da subito per predisporre i progetti indispensabili per poter concorrere all'ottenimento dei fondi ed individuando a tale scopo come obiettivo di un'azione di riqualificazione significativa in tal senso l'area di Rozzol Melara. Mi ricordato in proposito che mentre per la realizzazione dell'insieme degli interventi su scala nazionale il Fondo Governativo autorizza una spesa complessiva di 500 milioni di euro per l'anno 2016, nello specifico per i capoluoghi di provincia può venire autorizzata una spesa fino a 18 milioni di euro. Ed è proprio per questo il livello di finanziamento che il Comune di Trieste vorrebbe poter raggiungere che, se conseguito, consentirebbe di realizzare praticamente tutte le numerose opere contenute nello schema di progetto generale redatto dalla pianificazione municipale per l'area di Rozzol Melara, richiedente uno stanziamento complessivo di circa 22 milioni, una parte dei quali, peraltro, comunque coperti con i contributi dell'Atere di Acegas. Da rivelare, per partecipare al Bando Nazionale, il Comune dovrà provare ad inviare a Roma il progetto definitivo contenente anche i progetti di dettaglio di ogni singolo intervento entro la scadenza del 29 agosto. Le tipologie degli interventi, anch'essa in linea, a quanto previsto e richiesta dal Bando Nazionale vanno dalle azioni per il miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano, ai progetti di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione delle aree, strutture ed edilizie esistenti, anche di alcuni spazi attualmente abbandonati, all'adeguamento delle infrastrutture stradali e delle loro connessioni verso l'esterno, agli interventi di risanamento ambientale e di riqualificazione energetica fino a tutti per una maggior sicurezza complessiva della zona. In tutto hanno osservato gli assessori comunali e tecnici ater presenti al sopralluogo poter dare una spinta fondamentale verso il superamento delle diverse criticità di un complesso di edilizio economico popolare costruito alla fine degli anni 70, cioè ormai 35 anni or sono, che ospita 650 alloggi con la presenza di circa 1200 abitanti. Ancora un'ulteriore e non trascurabile fetta di interventi avrà per oggetto il miglioramento dei collegamenti pedonali e delle infrastrutture viarie, con l'obiettivo principale di mettere a sistema ai servizi esistenti, le scuole, il ricreatorio, le case di riposo ma anche le aree verdi circostanti, lo stesso parco di Villa Revoltella collegandoli meglio a beneficio di una migliore fruizione a favore innanzitutto di mamme anziani e giovani. Punto rilevante in tal senso avrà la sistemazione degli assi principali di scorrimento, ovvero le vie Forlanini-Marchesetti che non necessitano anche di un adeguamento dei marciapiedi e della creazione di attraversamenti pedonali protetti. L'insieme di questo vasto programma di opere, come detto, dovrà ora venire approvato dal Consiglio Comunale e quindi inviato a Roma per partecipare. Si confida con il miglior esito possibile. È il bando nazionale messo dal governo? È stato valutato dagli assessori Polli e Lodi che lo hanno presentato alla Giunta Comunale come una tra le prime progettazioni ampie di significato intervento sulla qualità del territorio e dei suoi insediamenti disposti dalla nuova amministrazione in carica, esprimendo con tale affermazione anche una piena rivendicazione di copyright politico-amministrativo, essendo tutte le procedure per gli atti deliberativi e progettuali nati e partiti con la neogiunta di piazza.